Allora, io ritengo che questo progetto sia importantissimo per AISM e per le persone con SM. Come dico sempre, AISM è un'associazione di persone con sclerosi multipla e quindi la distinzione non c'è tra le due cose. È importantissimo perché? Perché si sensibilizza, OSCII è riuscito a portare la nostra Carta dei Diritti in tantissimi comuni, è riuscito a far capire quali sono i bisogni delle persone con sclerosi multipla, ma soprattutto è riuscito a far capire la patologia anche in quei piccoli paesi dove della sclerosi multipla non si sa praticamente nulla, dove si ha ancora paura di questa patologia e quando in realtà, io dico sempre, si conosce questo mostro, poi questo mostro così mostro non è.